Sono stati tutti assolti i componenti della commissione che affidò la gestione dell'aeroporto dei parchi di Preturo alla società Express. È arrivata la soluzione completa dopo la vicenda giudiziaria per non aver commesso il fatto all'ex dirigente comunale Renato Amorosi difeso dall'avvocato Angela Marinangeli, per l'ingegner Giuseppe Galassi difeso dall'avvocato Francesca Caccia e per Raffaella Marciani dell'Enac difesa dagli avvocati Stefano Rossi e Maria Assunta Treia. La soluzione è arrivata con formula piena dopo la Camera di Consiglio, un procedimento che è durato ben quattro anni. Sul finire del 2014 ci fu la richiesta dell'invio a giudizio da parte del sostituto procuratore della Repubblica Stefano Gallo per i componenti della commissione che aveva affidato l'appalto dello scalo di Preturo alla società Express e al consorzio calabrese Innovative Solutions Italy, un socio minoritario con cui era stata stipulata a una convenzione. L'accusa sosteneva che l'affidamento da parte della commissione sarebbe stato ugualmente concesso nonostante l'omissione di alcuni documenti non presentati e che servivano invece ad attestare tutti i requisiti necessari per avere l'appalto. La conseguenza di questo comportamento sarebbe stata quella di fruire di fondi che sarebbero stati erogati dal Comune per un importo di oltre mezzo milione di euro in tre anni. Accuse cadute dopo quattro anni e una vicenda conclusa con la sentenza pronunciata tutti assolti i componenti della commissione.